Alla luce delle notizie e delle lamentali dei passeggeri, soprattutto sui social, arrivano le rassicurazioni e le risposte di Tua, l'azienda unica del trasporto pubblico abruzzese, in merito alla sicurezza per la neve e il ghiaccio sulle strade. A parlare il direttore generale Giuseppe Alfonso Cassino, il quale ci mostra l'officina dove vengono montate le gomme invernali sui mezzi pubblici. Gli utenti possono stare più che tranquilli perché, essendo un'azienda pubblica, uno dei nostri primi requisiti nel trasporto è che il trasporto avvenga in condizioni di assoluta sicurezza. Quindi tutto il resto è subordinato, al punto che la sicurezza non possa essere garantita per impraticabilità delle strade o quant'altro siamo ob tortocollo soggetti alla soppressione del servizio, quindi creando un problema di regolarità ma fermando il primato della sicurezza. Il nostro parco di autobus è costituito da 840 mezzi, sono tutti attrezzati per poter fronteggiare la situazione meteorologica che in questo momento sta interessando la regione, con particolarità nelle zone più alte. Tutti i mezzi sono attrezzati con gomme per fango e neve e hanno a bordo, nei casi in cui è necessario, anche le catene. I social naturalmente diffondono notizie che possono generare allarmismo, ma su questo ci tengo a rassicurare la nostra clientela. Perché ricordiamo le vostre sono linee extraurbane che variano dal livello del mare fino in collina? La sicurezza del mezzo dipende dalle condizioni dei pneumatici, ma ovviamente anche dalle condizioni della strada. Non c'è gomma antineve o catene che possano consentire di viaggiare su una strada sulla quale non sia intervenuto uno spartineve o non sia stato cosparso il sale. Quindi il risultato è l'effetto combinato di noi che gestiamo i mezzi, ma naturalmente anche di chi deve garantire una praticabilità della strada. Mi pare di capire che il problema più grave è rappresentato dal ghiaccio poi. Occorre agire con prudenza ed eventualmente ricorrere a una soppressione del servizio, ove non si possa fare diversamente, ma ripeto sempre con il principio di far viaggiare sicuri i nostri clienti.